Il titolo, la dice l'unico, lo Stradivari per ordine, lo Stradivari Mauro Benaglia, direttore dell'Accademia d'Archi di Milano, l'ha assicurato Quello di sabato sera in Cattedrale Alodi sarà un concerto di alto livello In occasione di San Bassiano verranno eseguiti glorie alle quattro stagioni di Vivaldi Violino sonista, con l'omobono Stradivari del 1740, Lorenzo Meraviglia Ecco un'anteprima 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 Ecco un'anteprima